Nome? Antonio Alfonso Età? 21, penso 18 Di dove sei? Isernia Forrid del Sannio Come sei entrato in AC Communication? Vecchi cazzo ricorda Erobriaco Che fascia hai vinto? Mister Sorriso Mister Modain, non so che significhi però Segui una dieta? No Il tuo segreto per essere bello? Non lo so Meglio il falco o l'albova? Il falco dai Mi piacciono le donne, grazie Andrai la serata all'hotel Europa? No Non penso proprio Con me è vero? Sì Cazzo ci vado Guarda, eviterei, grazie Perché non vuoi andare senza me, giusto? Certo Assolutamente no Sei fidanzato? Da me? No Moglie e figlia a casa Preferisci una ragazza bella, ricca, intelligente o romantica? A Radenera Sold Bella, ricca, intelligente e anche romantica Da quando fai il modello? Ti sei montato la testa? Sì E allora perché? Ah, non ho fregato robe Cosa ho fatto robe Da quando fai il modello? Ti sei montato la testa? No Ok, e allora perché non mi ti fidi? Sei troppo bello per me Speravo cadessi durante la sfilata Perché non sei caduto? Perché sono mostro Ero veramente in forma Ci siamo riscaldati prima Chi è più bello tra voi due? Io Ovviamente io Cosa non ti piace di lui? I capelli Il suo lato A Cosa gli ruberesti invece? La macchina Il sorriso è molto affascinante Chi vince il prossimo concorso? Nessuno di tutte e due Penso o entrambi o entrambi O entrambi o nessuno Fagli un rimprovero C'è ciso C'è scassato cazzo Fagli un complimento Sei proprio un fregnone Uau, mi pare una bambolilla Fagli una linguaccia Salutalo Ciao frate Mandalo a fanculo A fanculo Ti an' a fanculo Di un po' Collo terroritta Collo terroritta Collo terroritta Saluto a Star TV Stato buono Star TV Ci siamo visti Star TV Stati bene Entrampi Entrampi La P maiuscola Dove dico la P maiuscola